La raccolta differenziata nella Toscana del Sud continua a crescere avvicinandosi progressivamente alla media regionale. Per aiutare questo percorso, Sei Toscana, che dal 2020 fa parte del gruppo IREN, punta adesso all'informazione digitale. Tutte le informazioni infatti sui servizi ambientali nei 104 comuni serviti sono racchiusi nell'app IREN Ambiente. Inauguriamo l'app IREN Ambiente attraverso la quale ogni cittadino può vedere in diretta tutto quello del servizio svolto sulla propria via dove lui abita e dove ha la residenza. È un'app molto moderna che rispetto alla nostra avevamo prima un upgrade fondamentale. C'è anche la possibilità di scannerizzare codici a barre che ci consentono e consentiranno poi di vedere dove essere buttato e gettato quel rifiuto. E quindi credo che sia un passo in avanti che possiamo fare grazie al socio industriale IREN Ambiente che in qualche modo ci accompagna nello sviluppo del nostro piano industriale anche in cose importanti come queste per la comunicazione. È una delle tante sinergie che siamo in grado di dare anche a questo territorio, chiaramente in collaborazione con le peculiarità del territorio toscano, perché mette a disposizione anche di quest'area un'app che è già oggi operativa su oltre 2 milioni di abitanti serviti dal gruppo IREN. Quindi qua ampliamo e chiaramente abbiamo anche acquisito sensibilità del territorio che abbiamo portato all'interno di questa app e che serve sostanzialmente a semplificare le attività dei cittadini e a semplificare a volte anche il lavoro dell'azienda nel comunicare, nel dare le informazioni che riteniamo necessarie per il corretto utilizzo dei servizi.